l'altezza delle navi barbare non è un problema da poco come fa notare la bieno sic tela ex inferiore loco satis commode adigi non possunt così sic non si possono scagliare non possunt adigi con sufficiente efficacia satis commode alla lettera abbastanza utilmente i dardi tela ex inferiore loco dal basso da un luogo più basso ma c'è anche un altro inconveniente come sottolinea cesare et tela missa a gallis gravius accident e i dardi et tela missa a gallis scagliati dai galli gravius più pesantemente con maggior potenza accident cadranno che fare a questo punto come risolvere il problema dell'altezza delle navi nemiche la bieno ha un'idea una res magno usui erit una sola cosa sarà di grande utilità quenam la biene quale la bieno la bieno illustra la sua strategia falcibus preacutis preparatis preparate delle falci affilatissime et longuris ad fixis e saldamente fissate a pertiche longuris nostri funes qui antemnas ad malos destinant comprendent et aducent i nostri comprendent et aducent prenderanno e tireranno le funes cioè le sartie qui antemnas ad malos destinant che legano destinant le antenne antemnas agli alberi malos gli alberi della nave le antenne sono aste legate all'albero della nave cui è fissata la vela mentre le sartie sono i cavi utilizzati nelle imbarcazioni a vela per sorreggere l'albero